Cambiamo argomento. Quattro mesi dal Sisman a Verona si torna a parlare di Haiti. Protagonista Suzy Castor, direttrice del Centro per la ricerca e la formazione economico-sociale allo sviluppo, partner del MLAL Progetto Mondo e che nel pomeriggio ha incontrato i rappresentanti dei consigli comunale e provinciale. L'impatto di questo terremoto è ancora forte. Abbiamo avuto 300.000 morti, feriti, mutilati, un milione e mezzo di senza tetto e una popolazione che è ancora sotto shock. Tante emergenze con cui dobbiamo far fronte. Suzy Castor è un intellettuale, una storica, un'appassionata della vita politica del suo paese e un'appassionata della vita punto e basta. Lo si capisce dalla dolcezza ma anche dalla decisione con cui parla del suo popolo, il più povero dell'America Latina, ma anche il primo in assoluto a volere e ottenere l'indipendenza nel 1804. E proprio questo dinamismo e questa forza, secondo la donna, saranno la chiave del paese per arrivare a quella che, più che ricostruzione, chiama rifondazione. Il terremoto ha rappresentato una svolta e quella che segue è una nuova era. Non possiamo più comportarci come prima. Già eravamo una società in crisi. Questa è un'occasione per noi di ricostruire, di rifondare una nazione, cambiando il modo di fare politica, ricreando le infrastrutture, le relazioni internazionali e il sistema educativo, partendo dalla ricostruzione delle scuole. L'appello insieme all'esortazione stavolta non è tanto al resto del mondo, ma agli haitiani, tanti quelli che nelle tendopoli stanno ricominciando a vivere, ancora di più quelli che ancora oggi, durante la stagione delle piogge, vivono per strada o in ciò che resta delle loro case, col pericolo che ulteriori crolli mietano ancora molte vittime. La Commissione per la ricostruzione, capeggiata da Clinton e dal primo ministro locale, dice, ha indicato la direzione da seguire, ma ora a prendere in mano le redini della situazione, devono essere gli haitiani. Haiti ha sollevato molta simpatia e proprio questa va utilizzata come leva per avanzare. Abbiamo molte risorse, non certo minerarie, ma capacità e creatività che ci permetteranno di arrivare alla nostra rifondazione. Grazie. Grazie.